Aveva 24 anni e si chiamava Francesco Zampi, il giovane deceduto nell'incidente di Castiglione di Cervia a seguito dello scontro tra il suo scooter e un'auto. Le generalità della vittima sono state rese note solo nel tardo pomeriggio, a diverse ore dalla tragedia, dopo che la terribile notizia dell'incidente era stata comunicata ai familiari e l'ipotesi che si trattasse di un giovane nato nel 94, come inizialmente comunicato dalle forze dell'ordine, è stata invece sostituita dalla certezza delle generalità del giovane, che sembra si stesse recando a Forlì per un appuntamento. Durante la stagione estiva il 24enne lavorava come bagnino in uno stabilimento balneare del Cervese e sembra stesse tornando a Forlì verso le 12, quando in sella ad uno scooter Chimco si sarebbe trovato davanti una vettura station wagon condotto da un 82enne che stava svoltando verso il centro abitato di Castiglione. L'impatto tra i due mezzi è stato inevitabile. La vittima indossava il casco, ma la violenza dell'impatto gli ha provocato lesioni che ne hanno causato la morte prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso. Lo scooter invece si è incendiato immediatamente e sull'asfalto ne è rimasto un telaio in forme. La Polizia Municipale di Cervia si occupa della ricostruzione della dinamica della tragedia, mentre l'82enne che si trovava alla guida dell'auto è stato ricoverato alla Bufalini di Cesena in stato di shock e con ferite di media gravità.